pace e bene cari amici auguri di un santo natale del signore a voi tutti da noi missionari e della via in questo giorno pieno di gioia e di stupore per l'inimmaginabile celebrare non tanto la la salita dell'uomo sulla luna ma la discesa di dio sulla terra dio che in gesù si è fatto uno di noi ed è qui la radicale novità del cristianesimo rispetto a tutte le grandi religioni mentre tutte le grandi religioni dette in modo molto semplice ci comunicano ciò che l'uomo ha colto di dio nel cristianesimo e dio stesso che si è fatto uomo e ci ha narrato se stesso mentre tutti i profeti hanno cercato di comunicarci ciò che hanno compreso di dio in gesù dio stesso è venuto a raccontarsi e a salvarci e guardate davanti a gesù in estrema semplicità non abbiamo che tre possibilità o siamo davanti a un pazzo o siamo davanti a un bugiardo o siamo davanti a dio uno che ha detto e fatto ciò che lui ha fatto e detto non può essere che queste tre possibilità uno che dice chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue alla vita eterna uno che dice chi crede in me anche se muore vivrà uno che dice al buon ladrone oggi tu sarai con me in paradiso o sta prendendo in giro i suoi interlocutori o è uscito fuori di testa completamente oppure ha l'autorità per poterlo dire uno che nel contesto giudaico non parla nome di dio ma in nome suo facendosi dio o è completamente fuori di cabina o vuol prendere in giro mezzo mondo o deve avere l'autorità per poterlo dire uno che compie i segni che ha compiuto gesù guarigioni risurrezioni profezie o è un super ciarlatano ma di quelli che proprio imbrogliano alla grande o è davvero chi ha avuto la pretesa di essere cioè dio in mezzo a noi e dunque non abbiamo che queste tre possibilità ora da quanto ne sappiamo gesù non ha mai dato segni di squilibrio non si è mai contraddetto e a quanto pare continua a cambiare la vita di tutti coloro che credono in lui e aderiscono a lui da duemila anni a questa parte dunque dunque apriamoci a uno stupore immenso apriamoci a questo stupore di contemplare dio che viene in mezzo a noi leggendo e meditando il vangelo tratto dal secondo capitolo di luca versetti 1 14 contempliamo ancora di più come questa nascita susciti stupore da una parte abbiamo il governatore della siria quirinio che stabilisce un grande censimento ecco augusto era l'imperatore c'era la pax romana dunque il più forte che si imponeva sul più debole dunque la pace frutto del dominio c'era questo censimento dunque l'uomo che cerca di capire quanto ha tra le sue mani in questo contesto dio nasce e si mette nelle nostre mani che contrasto incredibile mentre l'uomo vuole avere tutto tra le mani per sentirsi potente dio che il vero onnipotente si manifesta come tale nell'amore e dunque si consegna fino in fondo nelle mani dell'altro e qui non possiamo che aprire il cuore allo stupore dio che si fa bambino senza lasciarci andare in sdolcinerie ma aprendo il cuore all'autentica tenerezza che a volte purtroppo si rischia di perdere di vista contempliamo dio che si è fatto bambino che incantò così tanto san francesco d'assisi da inventarsi il presepe cosa ti dice che dio creatore del cielo e della terra signore di tutto si fa bambino e si mette nelle mani degli uomini ti dice la tenerezza di dio ti dice la fiducia che dio ha nelle sue creature e quanto si fidi della loro libertà è una meraviglia è uno stupore pensate la parola eterna del padre che vagisce e non sa parlare colui che tutto ha creato che deve imparare persino a fare un castello di sabbia che non sa nulla che un bambino indifeso totalmente bisognoso delle cure della madre e del padre ecco come si presenta dio nella storia non come uno showman non come un potente con la parata militare ma come un bambino i padri dicevano che dio in gesù si è ristretto si è fatto piccolo e ci è venuto incontro e contemplare dio che si fa piccolo e nelle braccia di maria e lei nelle braccia di ognuno di noi ci fa sentire anche profondamente amati perché mentre noi tante volte non ci accettiamo mentre tante volte ci pensiamo inadeguati mentre tante volte pensiamo a dio come lontano inarrivabile impossibile da servire come lui vorrebbe lui ti viene incontro così piccolo e chiede solo di essere accolto di essere amato perché possa entrare trovare riposo nel nostro cuore con tutte le sue povertà e con tutte le sue miserie redimerlo e renderlo ricco bello della sua grazia allora da una parte abbiamo questo stupore abbiamo questo stupore nel contemplare come dio per nascere si serva anche delle cose più strane anche di questi censimenti di tutta la fatica di giuseppe maria che devono spostarsi di città a faticare a non trovare alloggio e proprio servirsi di tutto questo perché si possano adempiere le scritture e nascere a betlemme questo apre ancora di più il cuore allo stupore dicendoci guarda che dio guida la storia che anche le cose più strane più dolorose possono essere occasioni di grazia occasioni di salvezza ci dice che nulla va buttato via della nostra vita perché in ogni cosa prendoci a lui possiamo trovare un tesoro prezioso anche le cose più dolorose possono nascondere una grazia possono essere luoghi di incontro con la sua tenerezza possono essere cose che ci insegnano ad amare di più gli altri non buttare via nulla della propria vita ma saperlo mettere nelle mani di dio lasciarci entrare dio dio non ha paura della nostra povertà dio non ha paura della nostra miseria solo il nostro no può impedirgli di entrare da una parte dunque lo stupore ma dall'altra entra anche il dolore il dolore del rifiuto dio sin dall'inizio non trova spazio nel cuore di tanti maria e giuseppe cercano ospitalità ma non la trovano quante volte purtroppo il cuore nostro è già occupato occupato da tante cose che impediscono a dio di entrare preoccupati da mille affanni che ci tolgono il tempo di pregare di andare più in profondità di curare la nostra interiorità e il nostro rapporto con dio ma qui nello specifico maria e giuseppe non trovano posto dunque delle persone concrete che portavano in sé la presenza di dio quante volte dio bussa al nostro cuore attraverso i bisogni degli altri ma purtroppo non trova accoglienza quante volte il problema dell'altro la sofferenza dell'altro è vissuta come un intralcio una perdita di tempo un imprevisto fastidioso da togliere al più presto eppure proprio lì nell'altro bisognoso nel povero che bussa nella persona che cerca anche solo un gesto di affetto nella persona accanto a te che ha bisogno solo di un po del tuo tempo c'è dio che sta bussando e sta chiedendo di essere accolto sta chiedendo un po d'amore che davvero questo natale ci apra questo stupore grande di poter accogliere il signore gesù nella nostra vita di poter accogliere questo suo amore immenso per ognuno di noi e che il dolore per le tante volte in cui gli abbiamo detto di no ci smuovano e ci aiutino a vivere in modo significativo il natale e affinché poi ogni giorno della nostra vita possa davvero essere natale luogo della presenza di dio accolto nel nostro cuore pace e bene a tutti